Colesterolo è anch'esso un integratore a base di erbe monacolina K e coenzima Q10 che contribuiscono al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue, favoriscono il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo, promuovono inoltre il metabolismo dei carboidrati e coadiuvano il metabolismo dei lipidi. Inoltre altra funzione molto interessante e importante è che aiutano a mantenere la normale funzione epatica grazie all'azione del carciofo, del crespino indiano e della ginostemma.